Ma ciao a tutti ragazzi beneditori in questo nuovo video di Bluestars, oggi siamo qui Oggi siamo qui perchè come vedete da questo, da questa schermata ragazzi Siamo qui per portare Bo, Oro Sbo, da 0 a 500 siamo con l'account di mia sorella Ha sciopato Oro Sbo 2-3 giorni fa, non mi ricordo bene Ebbene si ragazzi, andremo a fare da 0 a 500 con Oro Sbo Non vi metterò tutte le partite perchè sarà una cosa incredibile, lunghissima E vi lascerò dei spezzettoni, ora vediamo e vi lascio il video Bella Ciao 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 Faster Coming like a hellcat Like a hellcat Ebbene si ragazzi come avete visto finalmente sono riuscito a portarlo a 3 minuti cioè è voluto veramente tanto non sono riuscito a fare 500 coppie tutte insieme per problemi ma comunque come potete vedere sono loro eh infatti tutte vedete 29 33 una dietro l'altra poi purtroppo Non me ne fa più vedere comunque grazie per essere Grazie per aver visto questo video vi dico dopo like, iscrizione e campanelle e c'erano tutte quelle posizioni per aspettare No ma non è niente Bella